qualcosa di più netto, io dico qualcosa di sinistra. Per noi qualcosa di grande non vuol dire necessariamente solo superare lo sbarramento e mandare qualcuno in Parlamento. Non è questo il rispetto, non è questo il rispetto. Chiaramente, noi non siamo stupiti, noi siamo stupiti e non giochiamo per perdere. Noi se facciamo una cosa visualizziamo sempre l'obiettivo più grande. Noi siamo convinti di quello che facciamo. Quindi è chiaro che quello è un risultato, è un obiettivo e se si ottiene qualcosa, un pezzo di rivoluzione che avviene nel nostro paese. Però allo stesso tempo la cosa grande non è legata dal percentuale. La cosa grande è riuscire a riattivare un meccanismo di entusiasmo e di protagonismo. Di andare dalle parti con orgoglio, senza vergognarsi, con qualcosa di proponibile e parlare alle persone. E dopo, quando finiscono le elezioni, io non sono proprio i programmi che mi vengono a cercare il voto, è proprio più e più per cinque anni. Io non ho avuto la discussione, la discussione, la discussione, la discussione, la discussione. Grazie.